Come generare clienti gratis, ebbene per te che guardi questo tutorial sarà facile grazie a Leadfeeder, appunto lo strumento automatico per trovare clienti online. Allora tuffiamoci direttamente nella scaletta di oggi e al primo punto racconteremo appunto quelle che sono le strategie per trovare clienti attraverso il punto 2, ovvero lo strumento di Leadfeeder. Ti racconterò che cos'è, che cosa fa, come ti può aiutare a fare tutto questo, ma soprattutto ti racconterò anche qualche dietro le quinte di strategie che puoi applicare. Ma resta fino alla fine perché ti darò un bonus che è come creare un funnel di vendita. Adesso che hai capito come trovarli questi clienti, magari vuoi automatizzare la parte delle conversioni, quindi quello che viene dopo. Ma prima di addentrarci in questo tutorial ti dico che c'è un fantastico regalo dagli amici di Leadfeeder, che è, e dagli amici di Automatikin che siamo noi, adesso te lo racconto. Se utilizzi, quando ti iscrivi questo codice sconto, avrai a vita un codice sconto appunto del 20% qualora tu decida di attivare l'abbonamento a pagamento, perché non è detto, visto che il Leadfeeder ha anche un bellissimo piano gratuito. Quindi, prima di iniziare, come sempre, permettimi di presentarmi. Io mi chiamo Stefano e ti do il mio personalissimo benvenuto in Automatikin, la prima e unica academy che in Italia e in Europa ti aiuta effettivamente a vendere di più senza stress. Grazie alle automazioni di business. Se non sai da dove iniziare, dici, ma guarda, sono... Inizia da qui, è molto facile. Automatikin.com slash gratis, la nostra newsletter fantastica, che ogni settimana ti permetterà di ricevere ben tre strumenti di automazioni che ti aiuteranno a mettere il pilota automatico al tuo business. E allora, tuffiamoci un attimino sul mio computer e ti presento come si presenta questo strumento, di cui, ti ricordo, tutti i link, il coupon, tutto quanto, troverai in descrizione. Quindi, facile, goditi il tutorial, goditi il vino, il video, il vino pure, se vuoi, un bel bicchino di vino con il tutorial, con il video, insomma, godi un pochettino, ma, in generale, trovi tutto in descrizione, ok? Torniamo sul mio computer. E ti dicevo, Leadfeeder è uno strumento molto bello perché ti aiuta a generare più clienti, più lead, attraverso lo scandagliamento, guardando, cercando le persone che già visitano il tuo sito. E perché parto proprio da questa parte qui? Perché, come ti avevo detto, ti ricordi come trovare più clienti? Quali sono le strategie? Come lo facciamo? Uno dei punti iniziali è catturare le persone che già ti stanno cercando, le persone che già stanno visitando il tuo sito. E tu mi dirai, Stefano, guarda, ma io ho già i numeri di Analytics, di Google Analytics, aperte e chiusa parentesi, ne parliamo in questo tutorial con Gaetano Romeo, se non sai che cos'è, sono dei dati che ti aiutano a creare delle strategie migliore, ma tu hai solo dei numeri. Io voglio nome e cognome delle aziende, delle persone che stanno visitando il mio sito, perché così le posso contattare via email, contattare via telefono, le posso mandare un messaggino, posso mandargli una promozione. Capisci bene com'è più facile, se sai già chi ti sta cercando, invece di sventolare un volantino in mezzo alla strada a caso, tu vai a dare alle persone mirate che già ti vogliono. E quindi è molto bello come strumento, è davvero molto utile, e ha, come ti dicevo, un pricing plan che parte da 0 euro, ok? E qualora tu voglia attivare la versione premium, ricordati che utilizzando il link in descrizione con il coupon sconto, avrai un regalo del 20%. Molto molto interessante perché ti permette di identificare i visitatori del tuo sito, qualificare, cioè capire chi sono, da dove vengono, anche quante volte hanno visitato il tuo sito, e adesso ti faccio vedere per quanto tempo eventualmente capire quelli che sono i reali decision maker e poi alla fine andare a fare quello che è l'invio attraverso strumenti di integrazione, ad esempio HubSpot, Hyperdrive e Salesforce, ZOO, che sono dei CRM, che ti permettono di contattarlo. Ma se sei d'accordo, il prezzo te l'ho fatto vedere, ti ho detto già quelli che sono le differenze, le trovi nella pagina del prezzo, ma sostanzialmente ti faccio vedere come si presenta all'interno Lead Feeder. Ha una dashboard molto semplice, io adesso ti darò, diciamo, una visione generale. Resta ancora un pochettino che poi ti dirò che se eventualmente puoi approfondire delle strategie un po' più approfondite che si abbassano su Lead Feeder per generare un volume più veloce, cioè per generare più clienti più velocemente in maniera un po' più figa, dammi ancora qualche secondo, prima ti faccio fare il tutorial e poi ti do questa chicca, ok? Tornando a noi è molto semplice, ci presenti in questo modo, qui è l'azienda o il link o il sito internet che hai collegato, eventualmente gli dici che cosa vuoi, ok, visitatori, oppure vuoi valutare le connessioni, ma tu lascia così, per adesso va più che bene. Qui trovi una parte importantissima che ti farò vedere fra un secondo, che è il codice che dovrai installare per fare in modo che le persone effettivamente, che lo strumento sappia che persona veramente ti sta realizzando. Non è che lo sa per magia, lo sa perché c'è un codice di monitoraggio che si matcha in automatico con i loro dati e ti converte quel visitatore in nome, cognome, clienti, aziende e tutto quello che vuoi tu, ok? Adesso ti faccio vedere, ma si presenta in questo modo, io sono nella sezione di tutti i lead, ho una data di riferimento, insomma una serie di cose che ti sto oscurando per una questione di privacy e ci sono un elenco di aziende che mi hanno contattato. Come vedi queste aziende, alcune sono dall'Italia, alcune sono dall'estero, io ho un business internazionale in tre lingue, lavoro in Italia, lavoro in Spagna e lavoro nei paesi di Stati Uniti, negli Stati Uniti e in USA e quindi ho, normale, un traffico che è molto vario, ok? Nel tuo caso magari ne vorrai solo quelli italiani, ad esempio la domanda è come potrai selezionare quelli che sono i lead migliore? Ebbene c'è una sezione proprio che si chiama Top Lead, te la faccio vedere fra un secondo, in questo momento io mi trovo in quella All Lead, ok? E qui si vede quelli che sono, per esempio, post-italiane, se io volessi capire quello che è l'approfondimento della company che mi ha visitato, ci clicco sopra e mi si apre questa scheda, ok? Te la faccio vedere qui, quella dei Top Lead, per esempio, ok? Questa scheda mi dice quella che è la posizione dell'azienda, come questa qui, ok? In questo momento stiamo analizzando questa, guarda mi sposto la task, molto bene, questa è un'azienda italiana che si incontra qui, mi ha visitato una sola volta, che pagine ha visitato? Allora, in realtà, una sola persona, ok? Un giorno fa mi ha visitato il contatto, vedi che qui ci sono dei colori, bene, il contatto mi dice che è di una buona qualità, quindi mi fa già una selezione in automatico di quelli che sono i contatti più interessanti. Mi dice anche, addirittura, sotto forma di tabella o di timeline, mi dice addirittura quello che sono le pagine che hanno visto, quindi ha speso sul mio tempo questo unico utente, Person 1, se ce ne fossero più di una ti direbbe Person 2, Person 3, oppure Persona 1, 2, 3, dicendolo in italiano, e ti dice anche il device, ovvero il dispositivo, mi ha visitato da un computer o mi ha visitato da un cellulare. Molto bene, in questo caso dice che è venuto direttamente sul mio sito, ha fatto un po' un po' di... ha balzato qui e lì, qui e lì, e poi si è fermato sul copywriting su Instagram, che è, se non lo sai, abbiamo un magazine bellissimo che ti racconta una serie di automazioni, di strumenti, di strategie molto fighe, molto interessanti, se non le è andate ad andare a un occhio, vai a automatikin.com, trovi la parte del magazine dove scrivono anche dei marketer, delle persone spettacolari, con un'esperienza enorme, vai a dare un occhio. Queste persone, questa persona, perché una sola, si è voluta concentrare 15 minutini sul marketing del copywriting per Instagram e poi ha visto un'altra serie di robette, va bene. La cosa interessante è che però io adesso vorrei contattarlo, ebbene, posso farlo, perché scendendo qui sotto in realtà in questo momento non mi sta dando nessun contatto perché non è riuscito a identificarlo, ma in realtà molte volte qui ci sono le informazioni che cerco perché mi connette in automatico una ricerca Google e mi connette in automatico con LinkedIn. Io per questione di privacy non ci posso cliccare sopra, ma fidati che la maggior parte, soprattutto non posso cliccare sulle altre, quello che ti voglio dire è che la maggior parte delle volte qui ci troverai dei contatti. In automatico Leadfeeder Scandagliarà il web a un database proprietario e mette insieme tutte queste informazioni per dirti guarda, di questa azienda ci ha lavorato, ci lavorano queste persone e ognuna fa questo ruolo e magari a te quella che interessa è questa qui, quindi ti converte vera e propria con le persone. Ma dicevamo, come fa Leadfeeder a sapere che contatti deve cercare, come fa a capire chi visita il tuo sito e ci devi installare un codice, un codice di tracciamento che si trova qui. Ok, io ti faccio vedere, si trova nella zona qui in alto, vai sulla zona, guarda, te la faccio vedere da qui se no non me la fa vedere di nuovo, nei personal settings, ti dai sulla voce di tracking ID, vediamo se mi ci fa andare senza perdere tutto quanto, lo apri in una nuova scheda, ti vai sulla voce qui di company, ci vai sulla voce qui sotto di lead feeder tracker e accedi qua. Ok, lead feeder tracker, sulla company, lead feeder tracker. molto interessante perché è molto semplice da incollare come tipo di strumento, tu basta che ci clicchi sopra, ci clicchi sopra qui, ti copi sul clipboard, in memoria, quello che è questo codice e lo puoi andare a installare attraverso Google Tag Manager oppure nel tag head del tuo sito internet. Che cosa significa il tag head? Che cosa vuol dire il Google Tag Manager? Sono degli strumenti che ti permettono di installare, per esempio, nel tuo sito WordPress il codice di tracciamento. se non sai come si fa, li puoi scrivere a loro, sono molto gentile, molto professionale, oppure ti ha detto che resta qualche secondo e ti risolvo tutti i problemi della vita? Bene, dammi ancora qualche secondo, finisco il tutorial e resto qui con te, ti dico come ti posso guidare personalmente a fare questo tipo di operazione, caso mai tu sia in difficoltà. Tornando a noi, ti dicevo, abbiamo visitato la parte di tutti i lead, possiamo scoprire anche la sezione dei lead assegnati a me, quindi potenziali clienti che sono assegnati a me, perché? Perché puoi aggiungere in lead feeder anche i membri del tuo team ma non paghi di più, cioè quello è l'abbonamento. Puoi aggiungere i membri del tuo team e puoi delegare magari determinati lead vuoi che siano fatti dal telemarketing e magari altri dall'email marketing, altri magari li vuoi gestire tu personalmente, qui trovi i lead che sono assegnati a te. Nella sezione new lead invece indovina un po', trovi i lead, i contatti, i potenziali clienti, il lead è proprio il potenziale cliente, bene molto più facilmente perché sono quelli più nuovi, quelli più recenti, ok? Se non vuoi qui cambiare le date, bene, lo è qui. Ma, come dicevo, qui c'è la parte del HubSpot dell'integrazione col CRM, ci sono alcuni parametri che tu puoi utilizzare per connettere questo dispositivo o altre cosette, ma non c'entriamo. io ti voglio far vedere la cosa più interessante che sono quella dei top lead. I top lead indovina un poco sono i lead un poco più qualitativi. Perché? Perché come ti ho fatto vedere io qui ho dei contatti tra virulette sporchi che vengono da mezzo mondo, ma diciamo che io voglia creare una strategia da assegnare a un mio collaboratore o a una mia collaboratrice o da seguirli personalmente di solo i clienti italiani. Solo quelli che magari hanno visitato il mio sito internet per più di 30 secondi o per più di un minuto, oppure che vengono da una pagina specifica, per esempio vengono da un mio sito di referente, dall'academy, le persone che vengono dall'academy. Posso capire, dici scusami, non ho capito, scusami, scusami, che cos'è l'academy? Guarda, ti faccio vedere pure l'automazione. Ti ho detto che siamo l'academy, la numero uno in Italia e in Europa di corsi di automazione, ebbene, academy.automaticing.com vagli a dare un occhio perché di sicuro trovi l'automazione che ti svolta la giornata, la vita, la settimana, probabilmente tutto l'anno, anche il prossimo. Vagli a dare un occhio perché c'è la nostra biblioteca delle automazioni. Quindi io posso capire, tornando al tutorial, effettivamente da dove vengono. Come faccio? Vado a creare un custom feed. Che cos'è? È un campo personalizzato, in pratica. Creandolo, ti trovi all'interno di questa parte qui, un new feed, ok? Io ho dovuto cambiare la scheda perché sennò si perdevano le parti oscurate per privacy, ma sostanzialmente crei un custom feed. Che cos'è? È un campo personalizzato di ricerca che seleziona un filtro, che seleziona i tuoi contatti, i tuoi lead, che in automatico il software ha raccolto, che in automatico tu puoi dare a qui, ma li selezioni sulla base di alcuni criteri. Perché? Perché non è detto che non tutti i lead sono uguali. Quindi a seconda di quello che ci devi fare tu ci crei dei filtri. Cope? Subito, te lo faccio vedere. Allora, entri in questa sezione qui, puoi chiamare il nome del feed, ovviamente, gli dai un nome e poi gli dici nella sezione dei filtri, il filtro è un filtro, è un imbuto, vedi la cosa, quindi ti dice di tutti i contatti qual è la goccettina che tu vuoi, il gruppettino che tu vuoi. In questo caso io posso dire che di questi 26 lead voglio, e ci sono delle categorie, ok? Ci sono delle categorie qui. Behavior, behavior vuol dire comportamento, sono tutte le persone che si sono comportate in un certo modo, ad esempio, vengono da un determinato dominio, vengono da un dispositivo speciale, hanno fatto un download di qualche cosa, è la prima visita, hanno un obiettivo, sono conosciuti, magari sono identificati perché io ce li ho nel CRM, vengono da una landing page, da un URL specifico, hanno visto 8-8 volte, hanno fatto play sul video, l'hanno visitato almeno 3 volte, cioè io qui posso capire, per esempio, visit length, che vuol dire la lunghezza della visita, quant'è durata la mia visita, io voglio le persone che non 30 secondi non mi bastano, vogliono che almeno abbiano investito 5 minuti sul mio sito, bene, che è un tempo di lettura abbastanza ampio, bene, lo posso fare perché se hanno visto almeno 5 minuti dei miei contenuti, fosse che fosse che sono interessati ai miei prodotti e ai miei servizi, ebbene lo posso sapere perché poi gli posso dare l'azienda, il nome e il cognome della persona o mi posso fare una ricerca online è fatta e da lì poi parte il sales funnel, arriva fino alla fine di questo video e capirà il passo successivo, quindi comportamento, ma non è solo acquisizione, da dove vengono, quale campagna, quale keyword, quale media, quale tutto, tutta la parte dell'acquisizione, la parte del company info perché magari voglio per esempio che vengono da una città specifica, abbiano un nome specifico oppure in questo caso un paese specifico, nel mio caso il filtro dei top lead va per paese, magari voglio tutti quelli italiani, tutti quelli spagnoli, tutti quelli americani, voglio per esempio abbiano almeno 10 dipendenti, 50 dipendenti, vengono da un'industria specifica, da una città, insomma ci sono dei, non te li faccio dire tutti quanti, basta che ci vai dare un occhio, oppure quelli che hanno compiuto specifiche attività, in questo caso se li abbiamo taggati, se abbiamo per esempio fatto un'email, abbiamo mandato contattati via email, li abbiamo semplicemente assegnati a qualcuno e l'ultima sono invece quelli del CRM, quindi dati specifici si trovano all'interno di una deal, quindi uno stage particolare della tua pipeline di vendita, vengono assegnati da qualcuno, insomma, hanno un valore economico specifico perché c'è un preventivo, un accordo che state svolgendo, magari devi avere un determinato range, ok? Tutto questo per dire che hai selezionato, ma puoi fare un passo in più, puoi automatizzare una parte di questi contatti, perché? Allora, a parte che c'è la parte di email, qui è molto semplice, puoi scegliere la tua email, la carichi e o le persone che sono caricate e puoi mandare una notifica, per esempio, giornaliera, settimanale, quindi qui scegli giornaliera, settimanale, per questo tipo di lead che tu stai creando, quindi Stefano i lead in Italia li vuole tutti i giorni, vuole un riassunto di quelli che sono quelli che hanno visitato, così il giorno dopo ci lavora o il giorno stesso, ma se lo voglio settimanale, voglio un riepilogo anche settimanale, ma magari Giorgio ha bisogno di questi altri lead, allora io creo un altro filtro, lo assegno a Giorgio e glielo mando via email, capite com'è bello, via email, facile, automatico, ma ci sono altre automazioni che possiamo andare a fare che sono quelle definite qui, per esempio, quando qualcuno riceve un tag, allora fai questo, per esempio, aggiungi un tag oppure assegna le persone che arrivano in questo filtro perché tu le hai filtrate, assegnale direttamente a qualcuno che c'hai nel team, oppure assegnagli un tag, ti ricordi prima alla Lead Feeder Activity che c'erano i filtri per tag, qui, qui, ti ricordi che c'erano i filtri qua e ti ho fatto vedere che c'erano i tag, ecco i tag li imposti qui, perché magari gli vuoi dire che sono clienti caldi, li vuoi nominare così, ebbene c'hai un'etichetta, li puoi condividere via mail, li puoi mandare addirittura ad HubSpot, il tuo CRM preferito probabilmente, la parte di access è interessante, è una feature nuova, una caratteristica nuova che ti permette di vedere se questa lista, questi lead sono visibili a tutto il team, sono solo per te, oppure sono specifici per qualcuno del tuo team, ma diciamo questa davvero non è tanto interessante, serve per i clienti molto grossi che hanno tanti dipartimenti, tante suddivisioni, allora far vedere tutto a tutti può creare confusione, ma nel nostro caso che magari abbiamo fino a 100 dipendenti, 50 dipendenti, abbiamo un business, diciamo una piccola medie impresa, siamo dei professionisti, non è tanto tanto importante, ok? Quello che ti dicevo, quindi riepilogando, riepilogando, questo strumento che cosa ti permette di fare? Lo installi attraverso questo, ti faccio vedere di nuovo, ok, lo installi attraverso questo codice che si trova nella sezione qui, vai sulla sezione che ti apparirà, guarda qui ti appare, ti appare, no, un'altra volta, vado qui, personal setting, ti apparirà questa schermata qui, tu vai sulla voce company, vai sulla voce lead feeder tracker e trovi questo codice qui, ok? Questo strumento ti permette di identificare dando l'impresa, nome e cognome delle persone che già stanno visitando il tuo sito, ma non basta, a noi non interessa avere tanti lead, perché sono sporchi, non sono qualificati, a noi interessa averne pochi, ma buoni, anche perché poi per gestirli serve tempo e noi qui stiamo a cercare questo equilibrio tra vita professionale e vita privata, perché come diciamo sempre nessuno, proprio nessuno, soprattutto neanche tu vuoi essere il più ricco o la più ricca del cimitero, quindi avere tantissimi lead da contattare e perderci tempo non ha senso, quindi attiviamo i custom field che sono questi moduli per cercare, decidere a quale persone assegnare, con quale automazione, di modo che noi ogni giorno, ogni settimana quando vogliamo abbiamo i contatti per, appunto abbiamo trovato finalmente i nostri clienti, abbiamo generato quei clienti, adesso si tratterà di contattarli e quindi ti dico le ultime due cose e te le avevo promesso. Il primo, ricordati che in descrizione c'è, a parte chiusa parentesi, il codice sconto automatico in 20, ricordati di dargli un occhio perché quel codice ti permette di risparmiare qualora tu voglia attivare la versione a pagamento. Ripeto, se vuoi quella gratis va benissimo, ma ti dicevo, ma se vuoi servito su un piatto d'argento tutta una strategia per, basata su lead feeder, per appunto imparare a convertire, a generare, produrre, trovare più clienti, ebbene ti consiglio di dare un occhio a summit.automaticin.com perché non solo troverai un'automazione specifica molto più completa e complessa per installare il codice, per fare tutto quello che ti serve all'interno di questo summit, ma è il primo e unico summit delle automazioni che ti aiuterà in 12 settimane a automatizzare differenti 12 aspetti ci saranno 4 automazioni per attrarre i clienti, 4 automazioni per crearci una relazione perché senza relazione come benissimo sai senza fiducia non si vende, ok? Quindi 4 automazioni tra cui c'è questa di lead feeder ma in una strategia un po' più ampia per attrarre, 4 automazioni e strategie per crearci fiducia e una relazione e le ultime 4 automazioni ti servono per convertire. Fino adesso abbiamo parlato di attrarre, creare fiducia, creare una relazione ma poi dobbiamo convertire in denaro suonante quelli che sono i nostri visite e le nostre visite al nostro sito quindi l'ultima fase è quella della conversione sono 12 settimane una lezione nuova ogni settimana vagli a dare un occhio è una cosa che sono certo che ti piacerà e in generale a proposito di piacere se ti interessa se ti interessa approfondire questo tipo di tematiche lasciami un bel mi piace un bel like qui sotto proprio adesso così al volo a volo perché così da una parte mi ringrazio ma soprattutto la cosa più importante mi dici che vuoi altri video che ti possono aiutare a vendere di più senza stress grazie all'automazione di business e il tuo amico preferito il tuo automatiker preferito Stefanino ti fa il video proprio per te va bene? ricordati che ci sono anche dei commenti qui se hai domande se hai dubbi se vuoi parlare tranquillo tranquilla c'è gratis la sezione dei commenti qui sotto io con molto piacere rispondo e sono presente va bene? che cosa dirti? ah sì l'ultimissima cosa ti avevo promesso ecco allora adesso che tu hai trovato anche a gratis i tuoi clienti abbiamo generato questi contatti e ce ne facciamo ebbene ti passo un video specifico che ti racconta un funnel di vendita in tre step e come poter insomma quello che è il passo il passo successivo sono certo che è esattamente quello che ti serve un abbraccio forte dalle canarie buone automazioni a tutti ciao